Sono strato a New York, sono entrato in un'armeria, è entrato un ragazzo, ha comprato una pistola, gli hanno fatto anche la ricevuta fiscale, in Italia per avere una ricevuta fiscale devi entrare con la pistola. Ladies and gentlemen, la Royal Albert Hall, Valentina. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie.